Nel giorno in cui sono tornati in classe anche gli alunni del capoluogo di regione, in prefettura Potenza si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, proprio per fare il punto sulla situazione nella scuola alla luce della diffusione del virus, ma non solo. Dal tavolo è emerso che, secondo l'ultima rilevazione di ieri, il tasso di assenza nelle scuole della regione è stato del 4-5%. Altro dato, sono 58 le persone tra docenti e personale scolastico che hanno ricevuto un decreto di sospensione perché non in regola con la vaccinazione. 66 coloro che hanno differito la dose. A dirlo è stata la dirigente dell'ufficio scolastico regionale di Basilicata, Claudia D'Atena. 115 invece coloro che al momento usufruiscono di congedi o assenze di vario tipo. Ci sono poi i diversi comuni del Potentino che hanno mandato in dad gli alugni. Ordinanze che manifestano vizi di legittimità ed eccesso di potere, ha scritto il prefetto Michele Campanaro in una lettera inviata ai sindaci della provincia. Nel corso della riunione, il prefetto ha chiarito che si tratta di una nota collaborativa. Le decisioni, insomma, debbono essere concertate con l'autorità di governo, ha spiegato il prefetto. E, eh, 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 eh.